La ballerina del Gemoulin di Giorgio Simenon, seconda parte. 4. I fumatori di pipa. Erano in quattro nell'immenso locale dove alcuni tavoli ricoperti di carta assorbente servivano da scrivanie. Le lampade avevano paralumi di cartone verde, le porte si aprivano su stanze vuote. Era sera, rimanevano solo quelli della Sûr-Té che aspettavano fumando la pipa. Il commissario del Vigne, alto e rosso di capelli, era seduto sul bordo di un tavolo e ogni tanto si attorcigliava i baffi. Un giovane ispettore faceva disegni sulla carta assorbente. A parlare era un uomo tracagnotto che veniva palesemente dalla campagna e che era rimasto contadino dalla testa ai piedi. 7 franchi al pezzo prendendone una dozzina. Pipe che in qualsiasi negozio verrebbero a costare 20 franchi. Neanche un difetto, eh? C'è mio cognato in fabbrica ad Arlon. Se ne potrebbero ordinare due dozzine per tutta la squadra. È quello che ho scritto a mio cognato. A proposito, lui che è del mestiere mi ha insegnato un trucco fantastico per ingrommare le pipe. Il commissario dondolava una gamba nel vuoto. Tutti seguivano attentamente la conversazione. Tutti fumavano. Nella luce cruda delle lampade, aleggiavano nuvole azzurrine. Invece di caricare la pipa come capita, bisogna prendere il fornello così. Si aprì la porta. Entrò un uomo che ne spingeva un altro davanti a sé. Il commissario gettò un'occhiata verso i nuovi arrivati e da dove si trovava domandò «Sai tu, Peronè?» «Sono io, capo». E allo specialista delle pipe «Sbrigati». Il giovane venne lasciato in piedi accanto alla porta e dovete ascoltare tutto il discorso sul modo di ingrommare le pipe. «Ne vuoi una anche tu?» chiese l'uomo tracagnotto a Peronè. «Una pipa in radica autentica a sette franchi, grazie a mio cognato che è caporeparto a Darlon». E il commissario, senza spostarsi, disse forte. «Venga un po' avanti, giovanotto». Era Jean Chabot, esangue, con gli occhi fissi di chi sta per avere una crisi di nervi. Gli altri lo osservavano continuando a fumare e a scambiarsi qualche frase e risero persino a una battuta. «Dove l'hai pizzicato, Peronè?» «Alguemoulin, è al momento giusto, proprio quando stava per gettare nel gabinetto delle banconote da cento». Il fatto non meravigliò nessuno. Il commissario si guardò intorno. «Chi vuole riempire i moduli?» Il più giovane si mise a un tavolo, prese un foglio che portava stampato un questionario. «Cognome, nome, età, professione, indirizzo, precedenti penali?» «Su, risponda!» «Chiabot Jean-Joseph Emile, impiegato, Rue de la Lua 53». «Nessuna condanna?» «No!» Le parole gli uscivano con difficoltà dalla gola serrata. «Padre?» «Chiabot Emile, contabile. Anche lui mai condannato?» «Mai!» «Madre?» «Elisabeth Duayenne, 42 anni». Nessuno ascoltava. Era la parte burocratica dell'interrogatorio. Il commissario, con i baffi rossicci, accese lentamente una pipa di schiuma, si alzò, fece qualche passo su e giù e chiese «Si è occupato qualcuno del suicidio del Quai de Coronne Meuse?» «Se ne sta occupando Gerbert?» «Bene, adesso a lei, giovanotto. E se vuole un buon consiglio, non cerchi di fare il furbo». «Ieri sera lei si trovava al Ghémoulin in compagnia di un certo Delphos di cui ci occuperemo più tardi. Fra tutti e due non avevate di che pagare le consumazioni ed eravate in debito per i giorni precedenti. È esatto?» Jean Chabot aprì la bocca, ma la richiuse senza aver detto niente. «I suoi genitori non sono ricchi. Lei non guadagna molto. Ciò non toglie che se la spassi. Ha debiti un po' dappertutto, è vero?» Il giovane chinò la testa e continuò a sentire puntati su di sé gli sguardi dei cinque uomini. Il tono del commissario era condiscendente con una punta di disprezzo. «Perfino col tabaccaio, perché ieri gli doveva ancora dei soldi. Sappiamo, sappiamo. Ragazzini che vogliono giocare a fare la bella vita senza averne i mezzi. Quante volte ha fregato i soldi dal portafoglio di suo padre?» Jean diventò paonazzo. Quella frase faceva male più di uno schiaffo e quel che è peggio era allo stesso tempo giusta e ingiusta. Tutto ciò che il commissario diceva in fondo era vero, ma la verità, presentata così in una luce tanto cruda e senza la minima sfumatura, non sembrava neanche più la verità. Chabot aveva cominciato a bere qualche birra con gli amici al Pelican. Si era abituato a berne tutte le sere perché era là che tutti si incontravano, creando una calda atmosfera di cameratismo. Uno pagava un giro, poi toccava a un altro. Giri che venivano a costare dai 6 ai 10 franchi. Era un momento così piacevole. Dopo l'ufficio, dopo le paternali del primo segretario, starsene là, nel caffè più lussuoso della città, a guardare la gente che passava in rue du Pont d'Avrois, a stringere mani, a osservare le belle donne che talvolta venivano a sedersi al loro tavolo. Si sentivano padroni di Liegi. Delphos pagava più giri degli altri perché era quello che aveva più soldi in tasca. Si va al Gémoulin stasera? C'è una ballerina fantastica. Questo era ancora più inebriante. I divanetti granata, l'atmosfera densa e calda, profumata, e poi la musica, la familiarità di Victor, e soprattutto la familiarità delle donne con le spalle nude che sollevavano la gonna per tendersi le calze. E a poco a poco era diventato un bisogno. Una volta, una sola, non volendo che fossero sempre gli altri a pagare, Jeanne aveva preso del denaro, non da casa sua, ma dalla piccola cassa. Aveva maggiorato il costo di una serie di raccomandate, appena 20 franchi. Non ho mai rubato niente a mio padre. Anche perché non ci deve essere molto da rubare. Ma torniamo alla serata di ieri. Vi trovate tutte e due al Gémoulin. Non avete un soldo, ma offrite da bere a una ballerina. Mi dia le sue sigarette. Il giovane gli porse il proprio pacchetto di sigarette, senza capire. Luxor col bocchino di sughero. Sono queste, vero Dubois? Proprio quelle. Bene. Nel locale c'è un uomo visibilmente ricco che beve champagne e che deve avere un portafoglio ben fornito. Contrariamente al solito, voi uscite dalla porta di servizio. E oggi, sulla scala della cantina, vicino a quell'uscita, vengono trovati due mozzicone di sigaretta e delle orme confuse, il che sembrerebbe dimostrare che invece di uscire davvero vi siete nascosti sul posto. Lo straniero è stato ucciso. Al Gémoulin o da qualche altra parte. Il suo portafoglio è stato rubato, come del resto il suo porta sigarette d'oro. Ecco che oggi voi due pagate i vostri debiti e stasera lei, sentendosi braccato, tenta di gettare dei soldi nel gabinetto. Tutto ciò fu detto in tono indifferente, come se il commissario stentasse a prendere sul serio quel caso. Ecco, è così che si finisce male, giovanotto. Vuoti il sacco, non le resta altro da fare e forse potremo tenerne conto. Il telefono squillò. Tutti tacquero, tranne un ispettore che alzò la cornetta. Pronto? Sì, bene, ditegli che il furgone passerà subito e rivolgendosi agli altri dopo aver riattaccato. È per la servetta che si è suicidata. I padroni non vedono l'ora che portino via il corpo. Chabot teneva lo sguardo fisso sul pavimento sudicio. Stringeva i denti così forte che non sarebbe stato possibile schiuderli neppure con la lama di un coltello. Dove avete aggredito, Grafopulos? Nel locale? All'uscita? Non è vero! protestò Jeanne con voce strozzata. Glielo giuro sulla testa di mio padre! Va bene, lasci stare suo padre. Ha già poco da stare allegro. Queste parole scatenarono in Jeanne un tremito convulso. Si guardò intorno atterrito rendendosi improvvisamente conto della sua situazione. Capì che nel giro di un'ora o due i suoi genitori sarebbero stati informati. Non è possibile! Non è vero! Non voglio! Urlò. Calma, giovanotto! Non voglio! Non voglio! Non voglio! E si scagliò contro un ispettore che si trovava fra lui e la porta. Fu una lotta breve. Il ragazzo non sapeva neppure quel che voleva. Era fuori di sé. Gridava. S'inghiozzava. E finì per rotolare a terra continuando a gemere e a torcersi le braccia. Gli altri lo guardavano fumando e scambiandosi occhiate. Un bicchiere d'acqua di Bois! Chi ha un po' di tabacco? Rovesciarono l'acqua sul viso di Chabot e la sua crisi di nervi si trasformò in crisi di pianto e piangendo si premeva spasmodicamente le dita sulla gola. Non voglio! Non voglio! Il commissario alzò le spalle borbottando Tutti uguali questi furfantelli e fra poco bisognerà ricevere il padre e la madre. L'atmosfera ricordava quella di un ospedale con i medici riuniti intorno a un paziente che lotta contro la morte. Erano in cinque ad attorniare un giovane, un ragazzino. Cinque uomini vigorosi che ne avevano viste ben altre e che non intendevano lasciarsi commuovere. Su, alzati! disse il commissario con impazienza. E Chabot ubbì di docilmente. Non aveva più la forza di resistere. La crisi lo aveva prostrato. Si guardava intorno terrorizzato come un animale che abbandona la lotta. La supplico. Dici piuttosto da dove vengono i soldi. Non lo so, glielo giuro, io... Non giurare in continuazione. Il vestito nero era coperto di polvere e asciugandosi la faccia con le mani sporche Chabot si tracciò sulle guance suolchi grigi. Mio padre è già malato. Ha avuto un attacco di cuore l'anno scorso e il medico gli ha raccomandato di evitare le emozioni. Parlava con voce monotona. Era inebetito. Non dovevi fare delle sciocchezze, ragazzo mio. E ora sarebbe meglio che tu parlassi. Chi lo ha colpito? Sei stato tu o è stato Del Fos? Un altro destinato a finire male, quello. Anzi, se c'è uno che dovrà pagare la cara è proprio lui. Entrò un nuovo poliziotto che salutò allegramente gli altri e andò a sedersi al suo tavolo dove si mise a sfogliare una pratica. Non sono stato io a uccidere. Non sapevo neanche... Va bene, ammettiamo che non sia stato tu. Adesso che dava del tuo al giovane, il commissario si mostrava più paterno. Saprai almeno qualcosa. I soldi non ti sono più avuti in tasca da soli. Ieri non ne avevi e oggi ne hai. Dategli una sedia a voi altri. Chabot bacillava visibilmente. Non si reggeva più in piedi. Si lasciò cadere sulla sedia di paglia e si prese la testa fra le mani. Non aver fretta di rispondere. Fa con calma. Dì a te stesso che è questo il modo migliore per uscirne. D'altronde non hai ancora 17 anni. Finirai davanti al tribunale dei minori e rischi solo il riformatorio. Un'idea aveva colpito Chabot che si guardò intorno con occhi meno annebbiati. Fissò i suoi aguzzini a uno a uno. Fra loro non c'era nessuno che somigliasse all'uomo con le spalle larghe. Si era forse sbagliato sul conto dello sconosciuto? Era davvero della polizia? O non era lui piuttosto l'assassino? La sera prima si trovava al Ghemoulin e poi era sempre rimasto alle costore dei due ragazzi. E non li aveva forse seguiti proprio per cercare di farli arrestare al suo posto? Credo di aver capito, esclamò mentre la speranza gli toglieva il respiro. Sì, penso di conoscere l'assassino. Un uomo molto alto, molto robusto, senza barba. Il commissario alzò le spalle, ma Chabot non si lasciò smontare. È entrato al Ghemoulin subito dopo il turco. Era solo. L'ho rivisto oggi che mi seguiva ed è andato a chiedere informazioni sul mio conto alla fruttivendola. Ma cos'è questa storia? L'ispettore Perroné borbottò. Non so esattamente, ma in effetti al Ghemoulin c'era un cliente che nessuno conosceva. Quando è uscito? Contemporaneamente alla ballerina. Il commissario guardò attentamente Chabot che ricominciava a sperare. Poi cessò di occuparsi di lui. Adesso si rivolgeva agli altri. Insomma, qual è l'ordine esatto delle uscite? Prima sono usciti i due ragazzi, o almeno hanno fatto finta di uscire perché abbiamo appurato che si erano nascosti in cantina. Poi il ballerino e i musicisti. Era l'ora di chiusura. L'uomo in questione ha portato con sé Adel che lavora nel locale. Dunque restavano il padrone, Grafopoulos e i due camerieri. Un momento, uno dei camerieri, quello che si chiama Joseph, se n'era andato contemporaneamente ai musicisti. Dunque il padrone, un cameriere e il greco. E i due ragazzi in cantina. Il padrone cosa dice? Che il cliente è uscito proprio allora e che lui, insieme a Victor, ha spento le luci e chiuso le porte. L'altro, quello di cui parla Chabot, non si è più visto? No, me l'hanno descritto tutti come un uomo alto e largo di spalle. Un francese, pensano, perché non aveva l'accento di qui. Il commissario sbadigliò e il suo modo di svuotare la pipa rivelava una certa impazienza. Allora, telefonate al Gémoulin e chiedete a Girard che cosa sta succedendo. Chabot aspettava con ansia. Era anche più terribile di prima, perché adesso aveva un barlume di speranza, ma aveva paura di ingannarsi ed era una paura che gli procurava un dolore fisico. Le sue mani si contraevano sul bordo del tavolo. Il suo sguardo andava dall'uno all'altro, soffermandosi in particolare sul telefono. Pronto? Il Gémoulin, signorina, per favore. E il poliziotto delle pipe domandò agli altri. Allora siamo d'accordo, scrivo a mio cognato? A proposito, come le preferite, col cannello diritto o ricurvo? Diritto, rispose il commissario. Allora, due dozzine di pipe col cannello diritto. Senta, ha ancora bisogno di me? Ho il bambino con il morbillo e... Puoi andare. Prima di uscire, il poliziotto gettò un'ultima occhiata a Jean Chabot e chiese sottovoce al capo, lo tratteniamo? E il giovane, che aveva sentito, cercò di cogliere la risposta con tutti i sensi spasmodicamente tesi. Non so ancora, in ogni caso fino a domani, deciderà la procura. Ogni speranza era perduta. La tensione di Jean si allentò. Se anche lo avessero rilasciato l'indomani, sarebbe stato troppo tardi. I suoi genitori avrebbero saputo. A quell'ora ormai lo stavano aspettando e si preoccupavano, ma non riusciva più a piangere. Si afflosciò, del tutto privo di forze, e udì appena la conversazione telefonica che si stava svolgendo. Girard? Allora che cosa sta facendo quello? Come? Ubriaco fradicio? Sì, ancora qui. No. Nega, naturalmente. Aspetta, chiedo al capo, e rivolgendosi al commissario. Girard chiede cosa deve fare. Il ragazzo è ubriaco fradicio. Ha ordinato champagne e lo sta bevendo con la ballerina che non è più sobria di lui. Lo arrestiamo? Il capo guardò Jean sospirando. Ne abbiamo già uno. No, che lo lasci non stare. Può darsi che commetta un'imprudenza. Ma dì a Girard di non mollarlo. Deve solo telefonarci fra un po'. Il commissario si era sistemato nell'unica poltrona della stanza. Aveva gli occhi chiusi e sembrava che dormisse. Ma il filo di fumo che si levava dalla pipa provava che non era affatto così. Un ispettore trascriveva in bella coppia l'interrogatorio di Jean Chabot. Un altro camminava su e giù aspettando con impazienza che arrivassero le tre per andarsene a letto. Faceva più fresco. Persino il fumo sembrava freddo. Il ragazzo non dormiva. I suoi pensieri si ingarbugliavano. Con tutti e due i gomiti sul tavolo chiudeva gli occhi poi li apriva poi li chiudeva di nuovo e ogni volta che spalancava le palpebre vedeva il medesimo foglio di carta intestata sul quale era scritto in un bel corsivo verbale a carico del signor Joseph de Mouroua bracciante agricolo domiciliato a Flemalot per furto di coniglia ai danni di... Il resto era nascosto da un sottomano. Il telefono squillò. L'ispettore che camminava su e giù andò a rispondere. Sì? Va bene? D'accordo? Glielo dico? Non si annoia di certo quello. Si avvicinò al capo. È Girard. Del Fosse e la ballerina hanno preso un taxi e si sono fatti portare a casa di Adèle in Rue de la Regence. Sono entrati insieme. Girard li sorveglia. Nella bruma rossastra che gli invadeva il cervello Jeanne immaginò la stanza di Adèle il letto che aveva visto sfatto la ballerina che si spogliava e accendeva il fornello a spirito. Continui a non avere niente da dire? Gli domandò il capo senza abbandonare la poltrona. Jeanne non rispose. Non ne aveva la forza. A stento realizzò che quelle parole erano rivolte a lui. Il commissario, sospirando, disse all'ispettore. Puoi andare. Lasciami solo un po' di tabacco. Crede che ne caverà qualcosa? E con lo sguardo indicava la sagoma nera di Jeanne piegato in due col busto sul tavolo. Nuova alzata di spalle. C'era un buco enorme nella memoria di Chabot. Un buco nero brulicante di forme oscure attraversato da scintille rosse che non facevano luce. Si raddrizzò sentendo uno squillo insistente. Vide tre palli di finestroni, delle lampade giallastre. Il commissario che si strofinava agli occhi e dopo aver preso meccanicamente dal tavolo la pipa spenta si trascinava verso il telefono con le gambe intorpidite. Pronto? Sì. La surte, sì. Ma no, vecchio mio. È qui. Come? Che venga pure a prenderlo se gli fa piacere. Il commissario con la lingua impastata si accese la pipa e ne tirò alcune boccate a mare prima di piantarsi davanti a Chabot. Tuo padre ha segnalato la tua scomparsa al commissariato della sesta divisione. Credo che stia venendo qui. I primi raggi di sole emergendo brutalmente da un tetto vicino incendiarono una delle vetrate mentre gli inservienti muniti di secchi e spazzole arrivavano per pulire i locali. Un indistinto brusio saliva dal mercato che si teneva davanti al municipio a duecento metri di distanza. I tram che avevano appena cominciato a circolare scampanellavano come se la loro missione fosse quella di svegliare la città. Jean Chabot con lo sguardo annebbiato si passò lentamente la mano tra i capelli. 5. Il confronto Il sibilo Rauco cessò nel momento in cui Delphos aprì gli occhi e subito egli si drizzò a sedere guardandosi intorno impaurito. Le tende della camera da letto non erano state chiuse e i raggi gialli della lampadina elettrica ancora accesa si mescolavano alla luce del giorno. Dalla strada salivano i rumori della città ormai in piena attività. Accanto a lui un respiro regolare. Era Adele spogliata solo a metà distesa sulla pancia e con la testa affondata nel cuscino. Un calore umidiccio si sprigionava dal suo corpo. Aveva ancora una scarpa e il tacco a spillo era conficcato nella trapunta di seta bianca. René del Fos stava male. La cravatta lo strangolava. Si alzò per prendere un po' d'acqua ne trovò nella caraffa ma non vide bicchieri. Bevve l'acqua ormai tiepida dal recipiente con ingordigia poi si guardò nello specchio della toilette. Il suo cervello reagiva lentamente. I ricordi affioravano solo uno alla volta e restavano molti buchi. Non ricordava ad esempio come avesse fatto ad arrivare in quella stanza. Consultò il suo orologio. Era fermo ma l'attività esterna indicava che erano almeno le nove del mattino. La banca di fronte era aperta. Adel chiamò per non sentirsi più solo. Lei si mosse si raggomitolò su un fianco ma non si svegliò. Adel devo parlarti la contemplava senza desiderio. Forse in quel momento la carne bianca della donna lo nauseava persino un po'. Lei aprì un occhio alzò le spalle e si riaddormentò. A mano a mano che tornava in sé Delphos diventava più nervoso. Il suo sguardo troppo mobile non si fissava su niente. Si diresse verso la finestra e riconobbe sul marciapiede di fronte l'ispettore di polizia che andava su e giù senza perdere di vista la porta. Adel svegliati per l'amor di Dio aveva paura una tremenda paura. Raccolse la giacca che giaceva a terra e quando l'ebbe indossata tastò meccanicamente le tasche. Non c'era un centesimo. Beve di nuovo e l'acqua che scendeva nel suo stomaco contratto era troppo pesante troppo insipida. Per un attimo gli parve di essere sul punto di vomitare e che questo gli avrebbe dato sollievo ma non ci riuscì. La ballerina continuava a dormire con i capelli sparsi sul cuscino la faccia lucida un sonno ostinato nel quale sembrava voler disperatamente sprofondare. Delphos si rimise le scarpe e vide sul tavolo la borsetta dell'amica allora gli venne un'idea andò a controllare se il poliziotto era ancora là fuori poi attese che il respiro di Adel si facesse più regolare. Aprì la borsetta senza far rumore mescolati alla rinfusa con il rossetto la cipria e alcune vecchie lettere c'erano all'incirca novecento franchi che il giovane si infilò in tasca. La donna non si era mossa Delphos si avviò verso la porta in punta di piedi scese le scale ma invece di uscire in strada si diresse verso il cortile era il cortile della drogheria ingombro di casse e barili una porta carraia dava su un'altra via dove c'erano dei camion in attesa dovette fare uno sforzo per non mettersi a correre e una mezz'ora più tardi arrivava in un bagno di sudore davanti alla garde Guillemain. L'ispettore Girard strinse la mano al collega che gli veniva incontro Cosa c'è? Il commissario vuole che gli porti il ragazzo e la ballerina ecco i mandati L'altro ha confessato? No continua a negare o meglio racconta non so quale storia di soldi rubati dal suo amico in una pasticceria c'è anche il padre non tira un'aria allegra Vieni anche tu? Il capo non ha precisato perché no? Entrarono nell'edificio e bussarono alla porta della stanza nessuno rispose Allora l'ispettore Girard girò la maniglia e la porta si aprì come se avesse avvertito il pericolo Adel si svegliò di colpo si sollevò sui gomiti e domandò con voce impastata Che cosa c'è? Polizia ho un mandato per voi due ma per Dio dove è finito il ragazzo? Anche lei lo cercò con lo sguardo mentre spingeva le gambe fuori dal letto come per istinto individuò la borsetta vide che era aperta e si precipitò a prenderla vi frugò con gesti febbrili e strillò Che mascalzone se l'hai filata con i miei soldi non si era accorta che se n'era andato? Dormivo ma me la pagherà vede che farà butti questi figli di papà Girard aveva notato un porta sigarette d'oro sul comodino Di chi è? L'avrà dimenticato lui l'aveva in mano ieri sera Si vesta Mi arrestate? Ho un mandato di comparizione per una certa Adel Bosquet di professione ballerina è lei suppongo Va bene Adel non perse la testa la sua preoccupazione dominante non sembrava l'arresto ma il furto di cui era stata vittima mentre si sistemava i capelli ripete due o tre volte Che mascalzone e io che dormivo tranquilla I due poliziotti si guardavano intorno con aria esperta scambiandosi occhiate d'intesa Credete che ci vorrà molto? domandò ancora la donna Perché allora prenderei della biancheria di ricambio Cosa vuole che ne sappiamo? Abbiamo ricevuto un ordine Lei alzò le spalle e sospirò Visto che non ho niente da rimproverarmi e dirigendosi verso la porta Vi sto aspettando Avete una macchina almeno? No? Allora preferisco camminare da sola Voi potete seguirmi Fece scattare con un gesto rabbioso il fermaglio della borsetta e la prese con sé mentre l'ispettore si infilava in tasca il porta sigarette Una volta fuori si diresse da sola verso gli uffici di polizia dove entrò senza esitazione fermandosi solo nell'ampio corridoio Da questa parte disse Girard Un momento vado a chiedere al capo se Inutile manovra la donna era già entrata Le bastò un'occhiata per rendersi conto della situazione Sicuramente aspettavano lei perché non succedeva nulla Il commistario con i baffi rossicci andava su e giù per lo stanzone Appoggiato con i gomiti a una scrivania Chabot cercava di mangiare un panino che qualcuno gli aveva portato quanto a suo padre stava in piedi in un angolo a testa bassa E l'altro? esclamò il capo quando vide entrare Adele accompagnata da Girard Sparito Deve essersela filata da una porta sul retro Secondo la signorina si è portato via tutto quello che c'era nella sua borsetta Chabot non osava guardare nessuno aveva posato il panino appena addentato Dei bei mascalzoni commissario Ah non ci casco più a fare la gentile con tipi del genere Calma calma e si limiti a rispondere alle mie domande Sì però si ha portato via tutti i miei risparmi Stia zitta per favore Girard parlò sottovoce al commissario e gli consegnò il porta sigarette d'oro Mi dica prima di tutto in che modo questo oggetto è arrivato in camera sua Lo riconosce suppongo Lei ha passato in compagnia di Grafopulos la sua ultima serata Si è servito parecchie volte di questo porta sigarette che diverse persone hanno notato È stato lui a regalarglielo? Adel guardò Chabot poi il commissario e disse decisa No Allora come mai si trovava in camera sua? Edelfos Chabot rialzò di scatto la testa fece l'atto di gettarsi su di lei e prese a dire Non è vero Lei Vada a sedersi Lei dice signorina che questo porta sigarette era in possesso di Delfos Si rende conto della gravità della sua accusa? La donna fece una risatina Come no? Non ha forse rubato il denaro che avevo nella borsetta? Lo conosceva da molto? Saranno tre mesi Da quando ha cominciato a venire tutti i giorni al Gémoulin con questo bel tipo Due spiantati d'altronde Avrei fatto bene a non fidarmi Ma lei sa come succede Sono giovani È rilassante fare quattro chiacchiere con loro Li trattavo da amici io E quando mi offrivano da bere mi preoccupavo di scegliere qualcosa che non costasse troppo Il suo sguardo era duro È stata l'amante di tutti e due? Scoppiò a ridere Neanche per sogno Certamente era quello che volevano Ma la tiravano in lungo senza avere il coraggio di dichiararsi Venivano da me separatamente con qualche pretesto a guardarmi mentre mi vestivo La sera del delitto lei ha bevuto champagne con Grafopoulos Eravate d'accordo che dopo sarebbe andata con lui? Per chi mi prende? Io faccio la ballerina L'entraineuse più esattamente Si sa cosa vuol dire È uscita insieme a lui? No Le ha fatto delle proposte? Sì e no Mi ha parlato di raggiungerlo in albergo non so più neanche dove Non ci ho fatto caso Lei non è uscita da sola? Esatto Mentre ero sulla porta un altro cliente uno che non conosco e che deve essere francese mi ha chiesto dove si trova la Place Saint-Lambert Io gli ho detto che andavo proprio da quella parte Mi ha accompagnata per un tratto poi all'improvviso ha dichiarato Ho dimenticato il tabacco al bar e ha fatto dietro front Un uomo corpulento? Proprio È tornata direttamente a casa? Come tutte le notti Ed è venuta a sapere del delitto il giorno dopo dai giornali? Questo giovanotto era da me è lui che mi ha detto Già due o tre volte Chabot aveva tentato di intervenire ma il commissario lo aveva bloccato con uno sguardo quanto a suo padre era sempre in piedi nello stesso posto Non ha la minima idea di chi possa essere l'assassino? Adel non rispose subito Parli Chabot ha appena confessato che quella sera era nascosto in compagnia del suo amico sulla scala della cantina Al-Ghemoulen Adel fece una risatina Sostiene che miravano solo alla cassa Quando sono rientrati nel locale circa un quarto d'ora dopo la chiusura avrebbero scorto il cadavere di Grafopulos Sta scherzando Secondo lei chi avrebbe potuto commettere il delitto? Aspetti Ci troviamo di fronte a un numero limitato di possibili colpevoli In primo luogo Gennaro il padrone del Knight sostiene di essersene andato subito dopo di lei in compagnia di Victor Afferma che Grafopulos era già uscito Adel alzò le spalle mentre Chabot la guardava con aria dura e supplichevole insieme Lei non crede alla colpevolezza di Gennaro o di Victor? È un'idiozia replicò la donna con indifferenza Rimane il cliente sconosciuto col quale lei sostiene di aver fatto un tratto di strada Potrebbe essere tornato indietro da solo o con lei E come avrebbe fatto a entrare? Lei lavora al Gemulenda abbastanza tempo e avrebbe potuto benissimo procurarsi una chiave falsa Nuova alzata di spalle Comunque il portasigarette l'aveva del Fos ribatté Adel ed è stato lui a nascondersi È falso L'indomani a mezzogiorno il portasigarette si trovava a casa sua gridò Chabot L'ho visto io lo giuro La donna ripetè L'aveva del Fos In un attimo ci fu un gran vociare interrotto dall'arrivo di un agente che disse qualcosa sottovoce al commissario Faccia passare Videro arrivare un agiato borghese sulla cinquantina con il ventre prominente attraversato da una massiccia catena d'orologio Era palese che cercava di assumere un'aria dignitosa quasi solenne Mi è stato chiesto di venire esordì guardandosi intorno pieno di stupore È lei signor Lanier intervene il commissario Si accomodi prego Mi dispiace di averla disturbata ma vorrei sapere se nel corso della giornata di ieri si è accorto che mancava del denaro dalla cassa Il pasticcere della Rue Leopold sgranò gli occhi e ripetè Dalla cassa? Chabot padre lo guardava con angoscia come se dalla risposta dell'uomo fosse di pesa la sua opinione in merito al caso Suppongo che se qualcuno prelevasse per esempio duemila franchi lei se ne accorgerebbe Duemila franchi? Veramente non capisco Non importa risponda alla mia domanda Ha constatato un ammanco di cassa? Assolutamente no Ieri ha ricevuto la visita di suo nipote? Aspetti Sì mi sembra che sia passato come fa di tanto in tanto certo più per far provvista di cioccolato che per vedermi Lei non ha mai notato che suo nipote rubasse denaro dalla cassa? Signore Lanier era indignato e sembrava voler prendere gli altri a testimone dell'oltraggio che veniva fatto alla sua famiglia Mio cognato è abbastanza ricco da dare a suo figlio tutto ciò di cui ha bisogno Mi scusi signor Lanier la ringrazio È tutto quello che voleva? Sì è tutto Ma cosa le fa credere? Non posso dirle niente per il momento Girard riaccompagna il signor Lanier e il commissario riprese a camminare su e giù mentre Adele chiedeva con aria sfrontata Qualcuno qui ha ancora bisogno di me? Il modo in cui il commissario la guardò fu abbastanza eloquente da indurla tacere e per più di dieci minuti ci fu silenzio Era evidente che aspettavano qualcuno o qualcosa Il signor Chabot non osava fumare non osava guardare il figlio provava lo stesso imbarazzo di un cliente povero nell'anticamera di un illustre clinico Quanto a Jeanne seguiva con gli occhi il commissario e ogni volta che questo gli passava vicino si riprometteva in vano di parlargli Finalmente si dirano dei passi nel corridoio Qualcuno bussò alla porta Avanti! Entrarono due uomini Gennaro basso e robusto con indosso un completo chiaro con Martingala e Victor che Chabot non aveva mai visto in abiti normali e che tutto vestito di nero sembrava un ecclesiastico Ho ricevuto la convocazione un'ora fa e esordì speditamente l'italiano Lo so lo so Mi dico piuttosto se stanotte ha visto il porta sigarette di Grafopulos in mano a René Del Fos Gennaro fece un inchino per scusarsi Personalmente non mi occupo molto dei clienti ma Victor potrà dirle Perfetto allora risponda lei Jean Chabot guardava il cameriere negli occhi ansimava Victor abbassò gli occhi con aria melliflua e mormorò Non vorrei far torto a questi ragazzi che sono sempre stati gentili con me ma suppongo di dover dire la verità non è vero? Risponda sì o no Beh sì ce l'aveva tanto che stavo per consigliargli di essere prudente Questa poi si indignò Jean è davvero troppo non si vergogna Victor senta signor commissario silenzio mi dica adesso che cosa pensa della situazione finanziaria di questi giovanotti e Victor imbarazzato sospirò come a malincuore certo mi dovevano sempre dei soldi e non solo per le consumazioni capitava che mi chiedessero qualche piccolo prestito che impressione le ha fatto Grafopulos quella di un ricco straniero di passaggio sono i clienti migliori ha ordinato subito champagne senza neanche chiedere il prezzo mi ha dato 50 franchi di mancia e lei ha visto parecchie banconote da mille franchi nel suo portafoglio sì era ben fornito soprattutto di banconote francesi niente banconote belghe è tutto quello che ha notato aveva un bellissimo brillante come ferma cravatta a che punto è andato via un po' dopo Adel che era in compagnia di un altro cliente uno robusto che ha bevuto soltanto birra e mi ha dato un franco di mancia un francese fumava del trinciato lei è rimasto solo col padrone il tempo di spegnere le luci e chiudere la porta ed è andato direttamente a casa come sempre il signor Gennaro mi ha lasciato all'inizio della rue Haute Souvenir dove lui abita al mattino prendendo servizio non ha notato niente fuori posto nel locale niente nessuna traccia di sangue c'erano le donne delle pulizie e io le ho tenute d'occhio Gennaro ascoltava distrattamente come se la cosa non lo riguardasse affatto il commissario si rivolse a lui è vero che lascia generalmente gli introiti della serata nella cassa chi glielo ha detto non ha importanza risponda alla domanda assolutamente no porto via il denaro tranne gli spiccioli cioè 50 franchi di moneta in media che lascia nel cassetto ma non è vero urlò letteralmente jean chabot 10 volte 20 volte l'ho visto uscire lasciando e Gennaro come? sarebbe lui quello che sostiene aveva l'aria sinceramente stupita si girò verso la donna ad elle glielo confermerà certamente quello che non capisco fra l'altro è come questi ragazzi possano affermare di aver visto il cadavere all'interno del locale grafopulos è andato via prima di me non è possibile che sia rientrato il delitto è stato commesso fuori non so dove mi dispiace di dover essere così categorico sono clienti anche loro e mi erano anche piuttosto simpatici la miglior prova è che facevo loro credito ma la verità è la verità e il caso è troppo grave per la ringrazio ci fu un momento di esitazione alla fine Gennaro chiese posso andarmene? sì lei è il suo cameriere se avrò ancora bisogno di voi ve lo farò sapere suppongo che non ci siano obiezioni al fatto che il locale resti aperto nessuna obiezione e Adel domandò e io? se ne torni a casa sono libera? il commissario non rispose era pensieroso accarezzava con ostinazione il fornello della pipa quando i tre furono usciti si avvertì un senso di vuoto erano rimasti soltanto il commissario Jean Chabot e suo padre e tutti tacevano fu il signor Chabot a parlare per primo esitò a lungo infine tossì ed esordì dicendo mi scusi ma crede veramente cosa? brontolò l'altro non so mi sembra e accennò un gesto come per supplire all'incertezza del suo pensiero un gesto vago che significava mi sembra che in tutto ciò ci sia qualcosa di poco limpido di poco chiaro qualcosa di equivoco Jean si era alzato in piedi aveva riacquistato una certa energia osò guardare suo padre mentono tutti articolò con voce nitida lo posso giurare lei mi crede signor commissario? nessuna risposta tu mi credi papà? per prima cosa il signor Chabot girò la testa dall'altra parte poi balbettò non lo so e alla fine dando retta al suo buonsenso quello che bisognerebbe trovare è il francese di cui parlano il commissario doveva essere indeciso perché si aggirava per la stanza a grandi passi che tradivano la sua collera in ogni caso Delphos è scomparso borbottò rivolgendosi a se stesso più che ai suoi interlocutori camminò ancora e dopo un po' riprese e due testimoni affermano che il porta sigaretta era in suo possesso continuava a passeggiare seguendo il corso dei suoi pensieri ed eravate tutti e due nella cantina e stanotte avete cercato di buttare delle banconote da cento franchi nel gabinetto e si fermò riguardo a uno dopo l'altro e poi c'è Lanier che nega di essere stato derubato uscì lasciandoli a tu per tu ma i due non ne approfittarono al suo ritorno padre e figlio erano al posto di prima a cinque metri uno dall'altro trincerati in uno scontroso silenzio pazienza ho appena telefonato al giudice istruttore è lui ormai a dirigere le indagini non vuole sentir parlare di libertà provvisoria se ha un favore da chiedere si rivolga al giudice de conning françois credo si chiami così e il padre pieno di vergogna mormorò eravamo insieme al ginnasio allora vada a trovarlo se crede che possa servire a qualcosa ma ne dubito perché lo conosco intanto mi ha ordinato di far portare suo figlio al carcere di saint leonard queste parole ebbero un suono sinistro fino a quel momento non vi era stato nulla di definitivo carcere di saint leonard l'orrendo fabbricato nero che deturpava un intero quartiere di fronte al pomme again con le sue torrette medievali le feritoie le inferriate jean pallidissimo taceva girar chiamò il commissario a prenda una porta prenda due agenti e la macchina non occorreva dire altro c'era solo da aspettare non rischia niente ad andare dal giudice de conning sospirò il commissario tanto per dire qualcosa visto che eravate a scuola insieme ma la sua espressione diceva chiaramente come la pensava del vigno valutava infatti la differenza fra il magistrato figlio di magistrati imparentato con i maggiori notabili della città e il contabile il cui figlio aveva confessato di aver tentato di svuotare la cassa di un locale notturno è tutto pronto capo venne a dire l'ispettore bisogna tra le mani gli brillava qualcosa il commissario si strinse nelle spalle in segno affermativo e il gesto di rito venne compiuto così rapidamente che il padre se ne rese conto solo quando era ormai terminato Girard aveva afferrato le mani di Jeanne ci fu uno scatto metallico per di qua le manette e due agenti in uniforme aspettavano fuori accanto a una macchina Jeanne fece alcuni passi sembrava quasi che stesse per andarsene senza dir niente invece giunto alla porta si girò la sua voce era quasi irriconoscibile ti giuro papà allora a proposito delle pipe stamattina ho pensato che se ne ordinassimo tre dozzine l'ispettore delle pipe era entrato senza accorgersi di niente d'un tratto vide la schiena del giovane un polso il riflesso delle manette e si interruppe allora ci siamo il che voleva dire lo sbattete dentro il commissario indicò il signor Chabot che si era seduto con la testa fra le mani e si inghiozzava come una donna l'altro continuò a parlare a bassa voce non avremo certo difficoltà a piazzare l'altra dozzina nelle varie divisioni a quel prezzo un rumore di portiera poi l'auto si mise in moto il commissario imbarazzato diceva al signor Chabot sa non c'è ancora niente di definitivo e mentendo soprattutto se lei è amico del giudice De Conning il padre battendo in ritirata abbozzò un pallido sorriso di ringraziamento 6 il fuggiasco a luna uscirono i quotidiani locali tutti recavano in prima pagina titoli sensazionali la Gazette del Liege il giornale dei benpensanti annunciava il caso del baule di Vimini il delitto è stato commesso da due giovani dissoluti da parte sua la Ballonie Socialiste titolava il delitto di due ragazzi della borghesia si dava notizia sia dell'arresto di Jean Chabot sia della fuga di Delphos la casa di Rue de la Loire era già stata presa di mira dai fotografi nel seguito si leggeva subito dopo il patetico colloquio avuto con il figlio nei locali della sureté il signor Chabot si è chiuso in casa e ha rifiutato di fare qualsiasi dichiarazione la signora Chabot molto scossa ha accusato un malore abbiamo raggiunto il signor Delphos al suo ritorno da Ui dove possiede degli stabilimenti è un uomo energico di una cinquantina d'anni e il suo sguardo non si è offuscato un solo istante nonostante lo shock subito ha conservato tutto il suo sangue freddo non crede alla colpevolezza del figlio e annuncia che si occuperà personalmente del caso al carcere di Saint Leonard ci hanno dichiarato che Jean Chabot è molto calmo e aspetta la visita del suo avvocato prima di comparire davanti al giudice istruttore De Conning che è stato investito del caso Rue de la Loire era tranquilla come al solito si vedevano i bambini entrare nel cortile della scuola e giocare in attesa dell'inizio delle lezioni dalle commessure del selciato sfuntavano sfuntavano ciuffi d'erba e all'altezza del numero civico 48 una donna lavava la soglia di casa con una spazzola di saggina unico rumore i colpi ritmati sull'incudine di un calderaio ma le porte si aprivano con maggior frequenza del solito qualcuno metteva fuori la testa e lanciava un'occhiata in direzione del numero 53 da una soglia all'altra i vicini si scambiavano opinioni possibile che abbia fatto una cosa del genere è ancora un ragazzino quando penso che solo poco tempo fa giocava ancora sul marciapiede con i miei l'avevo ben detto a mio marito quando l'ho visto tornare a casa ubriaco per la seconda volta alla sua età all'incirca ogni quarto d'ora nell'anticamera degli Chabot suonava il campanello ad aprire la porta era la studentessa polacca i signori Chabot non sono in casa diceva con un marcato accento straniero sono della Gazette degli Ege può dire loro che e il cronista si slogava il collo per cercare di guardare all'interno distingueva vagamente la cucina un uomo seduto di spalle non insista non sono in casa eppure la studentessa richiudeva la porta il giornalista si accontentava di interrogare i vicini in un giornale c'era un sottotitolo che faceva sentire un'altra campana che fine ha fatto l'uomo con le spalle larghe e più avanti si diceva tutti sembrano finora credere alla colpevolezza di Delphos e Chabot pur senza voler prendere le loro difese e attenendoci rigorosamente ai fatti non possiamo che stupirci per la scomparsa di un testimone importante il cliente con le spalle larghe che si trovava al Guémoulin la notte del delitto secondo il cameriere del locale si tratterebbe di un francese che è stato visto per la prima e ultima volta quella sera quest'uomo ha già lasciato la città preferisce non essere interrogato dalla polizia è una pista da non trascurare qualora i due giovani fossero innocenti potrebbe infatti gettare luce sull'intera vicenda sappiamo d'altro canto con certezza che il commissario Delvigne che conduce le indagini in stretta collaborazione con il giudice istruttore ha mobilitato le forze di polizia affinché il misterioso cliente del Guémoulin venga rintracciato il giornale uscì un po' prima delle due alle tre un uomo corpulento con le guance arrossate dalla cuperose si presentava alla polizia chiedeva del commissario Delvigne e dichiarava sono il gestore dell'hotel moderne di Rue du Pont d'Avrois ho appena letto i giornali e credo di potervi fornire informazioni sull'uomo che cercate il francese? sì e anche sulla vittima generalmente non vado alle chiacchiere dei giornali ed è per questo che mi sono accorto così tardi di quel che sto per dirvi dunque che giorno è oggi? venerdì allora era mercoledì è mercoledì che è stato commesso il delitto no? io non c'ero ero andato a Bruxelles per affari si è presentato un cliente che aveva un forte accento straniero e come unico bagaglio una valigetta di cinghiale ha chiesto una camera spaziosa che desse sulla strada ed è salito immediatamente qualche minuto dopo un altro cliente prendeva la camera vicina di solito facciamo compilare la scheda l'arrivo non so perché ma è andata diversamente io sono rientrato a mezzanotte ho dato un'occhiata al pannello delle chiavi ha le schede? ho chiesto alla cassiera sì tranne quelle di due clienti che sono usciti subito dopo il loro arrivo giovedì mattina uno solo dei due era tornato in albergo non mi sono preoccupato per l'altro perché ho pensato che avesse fatto qualche incontro galante nel corso della giornata non ho avuto occasione di incontrare il mio uomo e stamattina mi hanno detto che aveva pagato il conto e se n'era andato quando la cassiera gli ha chiesto di compilare la scheda lui ha alzato le spalle brontolando che non ne valeva più la pena scusi intervenne il commissario è quello che corrisponde ai connotati dell'uomo con le spalle larghe? sì se n'è andato con la sua borsa da viaggio verso le nove e l'altro? dato che non era tornato in albergo per curiosità sono entrato nella sua camera usando un passepartout che siamo obbligati a tenere per l'emergenza sulla valigetta di cinghiale era inciso un nome Ephraim Grafopoulos è così che sono venuto a sapere che l'individuo trovato nel baule di Vimini era stato mio cliente se ho capito bene sono arrivati mercoledì pomeriggio qualche ora prima del delitto uno dopo l'altro come se fossero scesi dallo stesso treno insomma sì dal rapido di Parigi e la sera sono usciti uno dopo l'altro senza aver compilato la scheda è rientrato solo il francese e stamattina è scomparso proprio così preferirei se fosse possibile che non venisse pubblicato il nome dell'albergo perché certi clienti si lasciano impressionare se non che alla stessa ora uno dei camerieri del Modern raccontava esattamente la stessa storia a un giornalista e alle 5 sulle ultime edizioni di tutti i giornali si leggeva le indagini prendono un'altra direzione l'assassino è l'uomo con le spalle larghe era una bella giornata la vita scorreva nelle vie inondate dal sole un po' dappertutto gli agenti tentavano di individuare tra i passanti il francese ricercato alla stazione dietro ogni impiegato della biglietteria c'era un ispettore e i viaggiatori venivano attentamente esaminati in Rue du Pod d'Or di fronte al Gémoulin un camion stava scaricando casse di champagne che venivano via via portate nella cantina attraverso il locale dove regnava una fresca penombra in maniche di camicia con la sigaretta fra le labbra Gennaro sovrintendeva l'operazione e alzava le spalle quando vedeva qualche passante che si fermava mormorando con un leggero brivido è lì che è successo cercavano di dare un'occhiata all'interno nella penombra in cui si distinguevano appena i divanetti di felpa granata e i tavolini di marmo alle 9 furono accese le luci e i musicisti si mesero ad accordare gli strumenti alle 9 e un quarto sei giornalisti si erano seduti al bar e discutevano animatamente alle 9 e mezzo la sala era quasi piena il che non capitava praticamente mai non solo c'erano tutti i giovani frequentatori di night e sale da ballo ma anche persone serie che per la prima volta in vita loro mettevano piede in un locale di dubbia fama volevano vedere nessuno ballava guardavano alternativamente il padrone Victor il ballerino professionista alcuni si dirigevano come era prevedibile verso la toilette per contemplare la famosa scala della cantina forza sbrighiamoci gridava Gennaro ai due camerieri sommersi dalle ordinazioni e faceva cenni all'orchestra intanto chiedeva sottovoce a una donna non hai visto Adel sarebbe ora che arrivasse perché la grande attrazione era Adel era soprattutto lei che i curiosi volevano vedere da vicino attenzione mi sbigliò un giornalista all'orecchio di un collega sono lì e indicò due uomini che occupavano un tavolo accanto alla cortina di velluto il commissario del vigno beveva birra e la schiuma gli restava attaccata ai baffi rossicci al suo fianco l'ispettore Girard scrutava gli avventori alle dieci c'era un'atmosfera del tutto inconsueta non era più il solito Gémoulin con i pochi clienti abituali e i viaggiatori in cerca della compagna di una notte a causa soprattutto della presenza dei giornalisti si aveva l'impressione di trovarsi a un grande processo in corte d'assise e al tempo stesso a una serata di gala le persone erano le stesse i reporter i cronisti un direttore di giornale era venuto di persona e poi c'erano tutti coloro che hanno l'abitudine di ritrovarsi nei grandi caffè i viveur come ancora si dice in provincia e le belle donne nella via sostavano una ventina di automobili tutti si scambiavano saluti da un tavolo all'altro si alzavano per distribuire strette di mano succederà qualcosa sssst abbassa la voce quel rosso laggiù è il commistario del Vigne se si è scomodato lui vuol dire che qual è Adel la biondona no non è ancora arrivata Adel arrivò fece un'entrata sensazionale indossava un ampio mantello di raso nero foderato di seta bianca prima avanzò di qualche passo si fermò si guardò intorno poi con incedere languido si diresse verso l'orchestra e tese la mano al direttore un lampo al magnesio un fotografo aveva scattato un'istantanea per il suo giornale e la giovane donna alzò le spalle come se quella popolarità le fosse indifferente cinque porto Vittor e Giuseppe tra felati si infilavano abilmente fra un tavolo e l'altro la si sarebbe detta una festa ma una festa in cui ognuno fosse là per guardare gli altri i ballerini professionisti erano i soli a volteggiare sulla pista non è poi così eccezionale diceva una donna che il marito portava per la prima volta in un locale notturno non vedo che cosa ci sia di riprovevole Gennaro si avvicinò ai poliziotti scusatemi signori vorrei chiedervi un consiglio dobbiamo procedere con lo spettacolo come al solito adesso dovrebbe ballare Adel il commissario alzò le spalle guardando altrove volevo solo essere sicuro di non contrariarvi la giovane donna era al bar attorniata dai giornalisti che la tempestavano di domande insomma Delphos ha rubato quello che c'era nella sua borsetta era il suo amante da molto tempo non era affatto il mio amante tradiva un certo imbarazzo doveva fare uno sforzo per sopportare il fuoco di tutti quegli sguardi ha bevuto champagne con grafopulos secondo lei che tipo di uomo era un tipo in gamba ma lasciatemi stare andò al guardaroba a togliersi il mantello e dopo un po' si avvicinò a Gennaro devo ballare? lui non sapeva che pesci pigliare guardava tutta quella folla con una punta di preoccupazione come se temesse di venirne sommerso mi chiedo cosa stanno aspettando Adel si accese una sigaretta e si appoggiò coi gomiti al banco del bar con lo sguardo assente senza rispondere alle domande che i giornalisti continuavano a rivolgerle una grassona pettegola stava dicendo a voce alta è ridicolo pagare una limonata 10 franchi e poi non c'è niente da vedere e tuttavia qualcosa da vedere ci fu ma solo per coloro che conoscevano i protagonisti del dramma a un certo punto il portiere in rosso sollevò la cortina e si intravide un uomo sulla cinquantina con i baffi grigio-argento che scorgendo tanta gente fece un'espressione stupita ebbe la tentazione di ritirarsi ma il suo sguardo incontrò quello di un giornalista che lo aveva riconosciuto e stava dando di gomito al vicino allora entrò con aria disinvolta scuotendo l'accendere della sigaretta aveva un aspetto giovanile e vestiva con notevole eleganza si avvertiva in lui l'uomo abituato agli agi alla vita notturna si diresse al bar dove avvistò Gennaro è lei il padrone del locale sì signore sono del FOS a quanto pare mio figlio le doveva del denaro Victor Victor accorse è il padre del signor René che chiede quanto ti doveva suo figlio un attimo che consulto il mio tacquino il signor René da solo oppure il signor René e il suo amico centocinquanta più settantacinque più dieci più i centoventi di ieri il signor del FOS gli porse una banconotta da mille franchi e disse brusco tenga il resto grazie signore grazie infinite gradisce qualcosa ma del FOS raggiunse l'uscita senza guardare nessuno passò accanto al commissario che non conosceva nel momento in cui oltrepassava la cortina sfiorò un cliente che stava entrando ma non vi prestò attenzione e risalì in macchina eppure stava per verificarsi il principale evento della serata l'uomo che faceva il suo ingresso era alto con le spalle larghe i lineamenti marcati e lo sguardo tranquillo Adel che non perdeva di vista la porta fu la prima ad accorgersi di lui sgranò gli occhi e assunse un'aria smarrita il nuovo venuto puntò dritto verso di lei e le tese una mano grassoccia tutto bene dopo l'altra sera la donna si sforzò di sorridere sì grazie e lei? alcuni giornalisti lo guardavano bisbigliando scommetto qualunque cosa che è lui non verrebbe qui stasera con un gesto di sfida l'uomo trasse di tasca un pacchetto di trinciato e si accinse a riempire la pipa una pale ale disse a Victor che passava sorreggendo un vassoio carico Victor fece un cenno di assenso proseguì la corsa passò accanto ai due poliziotti e mormorò rapido è lui come si diffuse la notizia fatto sta che un minuto dopo tutti gli sguardi erano puntati sull'uomo con le spalle larghe che con una coscia su uno sgabello del bar e l'altra gamba penzoloni sorseggiava la sua birra inglese contemplando gli astanti attraverso il bicchiere appannato tre volte Gennaro dovette schioccare le dita perché l'orchestrina jazz si decidesse a suonare un altro pezzo anche il ballerino professionista pur continuando a guidare la sua partner sul pavimento lucido di cera non distoglieva lo sguardo da quell'uomo il commissario del vigne e l'ispettore si scambiavano impercettibili cenni alcuni giornalisti li osservavano andiamo? i due si alzarono insieme e con passo lento si diressero verso il bar il commissario con i baffi rossicci si appoggiò con i gomiti al banco di fronte all'uomo Girard gli si piazzò alle spalle pronto ad afferrarlo per la vita la musica non si interruppe eppure tutti ebbero l'impressione che fosse calato un silenzio innaturale scusi lei non è sceso all'hotel modern uno sguardo duro si posò su colui che aveva parlato e con ciò credo che lei abbia dimenticato di compilare la scheda Adel si trovava a non più di tre passi e teneva lo sguardo fisso sullo sconosciuto Gennaro stava facendo saltare il tappo di una bottiglia di champagne se non ha niente in contrario vorrei che venisse a compilarla nel mio ufficio la prego niente scenate il commissario del Vigne scrutava i lineamenti dell'uomo che aveva di fronte e si domandava in vano che cosa in lui lo colpisse tanto mi segua un attimo l'uomo portò la mano alla tasca l'ispettore Girard credette che volesse tirar fuori una rivoltella e fece la sciocchezza di estrarre la propria qualcuno si alzò in piedi una donna lanciò un grido di spavento ma l'uomo voleva solo prendere qualche spicciolo che posò sul banco dicendo la seguo la loro uscita non passò certo inosservata la vista della rivoltella aveva spaventato i clienti che altrimenti avrebbero di sicuro fatto ala al loro passaggio il commissario camminava davanti poi veniva lo sconosciuto poi Girard paonazzo per via della sua mossa sbagliata vi fu il lampo al magnesio di un fotografo una macchina aspettava davanti alla porta salga prego c'erano solo tre minuti di strada per arrivare agli uffici di polizia alcuni ispettori in servizio notturno erano intenti a giocare a picchetto e a bere la birra che si erano fatti portare da un caffè vicino l'uomo entrò come fosse a casa sua si tolse la bombetta e accese una grossa pipa che si accordava con il suo viso dai lineamenti marcati ha un documento Del Vigne era nervoso c'era qualcosa che non gli piaceva in quella faccenda e non sapeva che cosa nessun documento dove ha depositato la valigia quando ha lasciato l'hotel Modern il commissario gli rivolse uno sguardo penetrante era inquieto perché aveva l'impressione che il suo interlocutore si stesse divertendo come un bambino non ne ho la più pallida idea nome cognome professione domicilio è il suo ufficio quello lì accanto dalla porta aperta si vedeva una stanzetta vuota e buia e con questo venga fu l'uomo con le spalle larghe a entrare per primo girò l'interruttore e richiuse la porta commissario Maigret della polizia giudiziaria di Parigi disse allora aspirando rapide boccate dalla pipa dunque caro collega credo che stasera abbiamo fatto un buon lavoro e lei ha una bellissima pipa grazie a tutti